Sì. Hai capito quello che fa? Quando qualcuno chiede perdonare un pataterno, io a voi chiamo. Amen. Amen. Martina, Gaetano Gargiù. Ho sentito molto per la vita, voglio? Sì. Se hai bisogno di qualche consiglio, vieni a me a trovare. Sì, sì. Io ti capisco. Puri vengo da Mizzaghi. Sì. Chiamo a me. Mi raccomando. Gaetano! 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 E' chiamatelo pure pure! Gaetano! Oh! Oh! Finalmente, applausi! Gaetano! Gaetano! Apre le gambe! Questo è l'arco di triunfo! Oh! Oh! Tua cennezza! Entra da qua! Ah! E se ne esce! Guarda, nu poco! Da qua! Ah! Ah! Il mistero della pietra verde di Buren. Oppure... I pianeti che vivono in noi. Tutte cose belle. Raffinatissime. Raffinatissime.